Primarie per la scelta del candidato sindaco ad Avellino oppure ognuno per la sua strada. Il parlamentare Umberto del Basso De Caro lancia un chiaro avvertimento al Partito Democratico Irpino mentre tiene a battesimo l'associazione politico-culturale Ora Avellino che l'ex consigliere comunale Livio Petitto ha fondato con il chiaro intento di sostenere la candidatura a sindaco di Gianluca Festa che avvia tagliamento però vedono quasi come un eretico per il suo contributo decisivo alla vittoria del centrodestra di Biancardi alla provincia di Avellino ma ormai il dado è tratto e un pezzo del PD è pronto a sostenere la sfida di festa e De Caro sta dalla sua parte. Io penso che innanzitutto sia necessaria l'unità del Partito Democratico poi l'unità della coalizione ma senza l'unità del PD non esiste l'unità della coalizione poi c'è il punto di caduta, ci si ritrova su un candidato unico, magnifico, siamo tutti più contenti non ci dovesse essere il punto di caduta perché ci sono pluralità di aspirazione lo statuto del nostro partito dice chiaramente che cosa dobbiamo fare, le primarie Cosa risponde al messaggio lanciato dal segretario provinciale che ha detto chi non lavora alla lista del PD è fuori dal partito? Non credo che sia sua competenza stabilire chi è dentro e chi è fuori noi lavoriamo alla lista del PD, io ho più responsabilità di lui per la verità perché sono l'unico deputato quindi ne ho un po' più di lui io chiedo le primarie però, questa è la differenza non chiedo e non auspico che il candidato venga fuori da un caminetto c'è un problema di metodo di scelta del candidato se ci troviamo è bene, se no deciderà la direzione nazionale certo non decide di Guglielmo grazie